Se vedo che c'è un casino che c'è dappertutto, non si cammina neanche. La cucina italiana e i pochi d'artificio. Sta per arrivare il 2023 e i prezzi volano alle stelle. Sarà un carissimo capodanno a partire dal cenone con salmone affumicato, lenticchie e cotechino. Per chi trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno a casa, il menù costerà il 9,6% in più rispetto all'anno scorso. Abbiamo deciso di fare capodanno in piazza. Quindi albero, San Marco e un po' di cicchietto in giro. Vivo all'estero, quindi torno sempre con un grandissimo felicità. Con una spesa media di circa 50 euro a persona. I costi lievitano in tutta Italia e non fa eccezione Venezia, tra le mete più ambite dai turisti italiani e soprattutto stranieri, con aumento del 30% di presenze rispetto a 12 mesi fa. Siamo nel cuore pulsante di Venezia dove il ricavo medio per camera è aumentato addirittura del 30%, segno che c'è sempre grande voglia di venirci. Alberghi pieni, ristoranti presi d'assalto. Per salutare l'arrivo del 2023 c'è chi è disposto a pagare cifre da capogiro, anche oltre 1000 euro per passare il cenone di San Silvestro nei locali più esclusivi. Siamo parlando di 204 camere occupate su 204, sì. C'è la suite del Doge che è nel piano superiore, il piano nobile qui, parliamo di 12.000 euro. È uno spettacolo dell'umanità, piena di umanità anche perché è gente da tutto il mondo, come normale che sia, come è sempre stato. Siamo molto contenti perché abbiamo ritrovato la voglia di fare il nostro lavoro, abbiamo riacquistato quella sicurezza che avevamo un pochino perso. E pensare che quello delle feste natalizie non è mai stato un periodo di alta stagione. Cicchetto, spritz, bere a casa. Beh, è una città magica fuori dal normale, cioè siamo sull'acqua. La tradizione del bacio collettivo, devo ancora capire se la persona a baciare bisogna portarsela al sacco da casa o si trova direttamente in piazza San Marco.